Musica 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 Grazie. 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 Ci prepariamo un atto per la proposta su. Ok. Allora, piano piano, pian pianino, Missa Nostra, dalla... ... 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 Allora, signori, allora signori, vieni, stai a piatto fermata, tu, non è arrivata, sta arrivando la seconda terra, è arrivata bene? Andai, Gabri, Gabri! Ok, ok, allora, risposto qua, la popolazione, vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 v Grazie 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 Grazie